Ciao a tutti Che spettacolo Bella raga Mi mancava questa tipologia L'ultima era di Antonio Viola Che abbiamo giocato Bene favoloso Non sono l'unico esploso Tutti stanno esplodendo Comunque non è l'una C'è l'una di notte Di nuovo orario strano Registrario E sai che qua ci conviene Il metodo di respawnar dopo Però dipende se ammessi check il teletrasporto Ok magari l'ha messi pure su E forse quel creatore mette doppio check il teletrasporto Sapete Quinta posizione Grandissimo Matteo G Oh regà non me distruggi Anzi no fate bene Che meraviglia regà Rilassante Ti saluto Zacca Ti saluto solo Allora ieri ho mandato un po' di richieste d'amicizia Piano piano Le stiamo mandando tutte Tranquilli Bella sui ti salutano Tiger Rebecca Pietro E Matti Scampa Matti Scampa Ancora dobbiamo inviare la richiesta Allora teoricamente Adesso non abbiamo rischio di esplodere Bella cooperativa Perché insali qua sopra Ok regà Senti che l'ho pieno di posizioni Che? Dove sei buggato regà? Ma che strano Ah no veloce Scendi veloce Rischio di esplodere Non c'è bella Le bar Che bellissimo Chi è? Le bar Asui Ok Vedi che succede A scrivere messaggi Che te trolli Mamma mia Questa è l'esplosione Regà A voglia A voglia Andiamo Vediamo come anti-check sono Che meraviglia Mi piacciono tanto Ma è strano questo aereo? Che cosa c'è di strano regà? Lento nei movimenti Forse perché stiamo andando in salita Non me lo ricordavo così strano Ma forse è più veloce l'aereo Che ho messo io nella mia rampa fast Non sembra così veloce Questa aereo Boh Forse è solo apparenza Non si sa Allora qui fanno il giretto Ma noi Respondiamo che è meglio regà Centomila volte Nemmeno Mi respawno nei cinquant'anni Quindi vado a dio Allora qua c'è il freno Anzi Il giro proprio va evitato Ok L'F1 esplode facilmente? Sì Credo proprio di sì Terza posizione Abbiamo superato Mattag Mi dispiace Mattag Ok Uh Chi c'è sta? Alle bar? Seconda posizione regà Meraviglioso Ok Guarda se scendi così F1 A me va più che bene Perfetto Perfetto Non attiviamo il turbo Se no Se buggano tutti I check Regà Dopo un casino 9 check su 28 Carlitos Primero Sta andando più veloce Matteo G Regà Non lo so Sembra che si allontana Regà Chi c'ha? L'aereo mio? C'è qualcosa regà? Magari il joystick? Non lo so Non ho idea Può succedere che il joystick Si danneggi E praticamente Non va al massimo A me non è mai successo Infatti vi consiglio che Se succede una cosa simile Su GTA Si può risolvere Però momentaneamente Cambiando L'acceleratore Con L1 Regà Almeno potete fare Qualche gara Perché Ho visto gente giocare Con l'R2 rotto Regà Praticamente Non poteva finire Nessuna gara Perché magari c'era un salto Che il calcolatore L'aveva creato Alla velocità massima E non si poteva Ma qui mi sono andato Che c'è pure una primera Forse Zitti 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 Non andato a finire Matteo G Andiamo Dario Che fai Minibun Me ne dicono che si Bella Primera posizione Ragazzi Ma che c'ha Non lo so Mo controlliamo Matteo G va a 2000 Con quell'aereo Cos'è che sbaglio Cos'è che sta toccando Niente Il carellino Non c'è No Carlitos Va come me Ma Non lo so Dipende tutto Da come usciamo Da quel check Allora Madre mia Sui Madre mia Madre mia Che è successo Non lo so Ragazzi Meno male che siamo vivi Ah no Forse quest'aereo È bello tosto Ragazzi Uno di quegli aerei che Tipo se vai a sbattere Non esplode subito Non mi ricordo Comunque era Uno di questi aerei Tipo Allora Attenzione Bello pure L'autobus Ragazzi Volato via Matteo G Sei ciao Matteo G Ti c'è il rischio di svelare Che in serio È svelato Te in serio È svelato Occhio È vivo È vivo Possiamo andare pure Laterali Oh Dobbiamo fare attenzione Qua si può cascare sotto Però Ti prego Ti prego Non ti incastrare Ti prego Che ci dobbiamo sbrigare Ok Perfetto Ragazzi No No Belli veloci Poi ci sono Sbrigastere pure il bar Allora Bella sui Mi saluti Mio figlio Antonio Certo che lo saluto Grandissimo Antonio Vedete Oh Oh Regà Guarda Regà Che cos'è Ve lo spiegate Che cos'è questo Non sono l'unico Vero Non lo so Regà A me sembra strano L'aereo Oggi Veramente Strano Ok Ok Che arrettino Respondiamo Respondiamo Allora Bello 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 Non c'è respawno Ne 50 anni Regà Ma questo Sì che è una bella notizia Chi è che mi ha superato Nessuno Dove sta Matteo G Ok Mamma mia Mi ha sfiorato Regà No 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 Chiodinino Eh dai Che stavo a prendere Una bella velocità Te prego Dio Qua c'è rischio Pure che ci incastriamo E dobbiamo respawnare Che è arrivato Pure alle barre Noi dobbiamo prendere Un ritmo Regà Però con questo veicolo È leggermente Impossible Perché appena saltiamo Bella Demax Mamma mia Meno male che sono respawnato Alla regà Sennò è l'esplosione Sicura No no Che sta a succedere Regà Ok Ok Siamo a vivere Possiamo andare Che sta a combinare Se digitare Con il povero Alle barre Vorrei sapere Non lo so Vediamo A lui pure Fa lo stesso effetto Credo di sia Avete visto Come ha rallentata Le barre Sì pure Quello là L'aereo Quello là No regà Credo che sia Una cosa normale Però non me lo ricordavo L'aereo così Non me lo ricordavo Per niente Ma te lo citto Sta regà 20 Zitti Zitti Non perdiamo tempo Sbrichiamoci Allora Se riusciamo Ad attivare Un doppio turbo Regà Sarebbe fantastico No ci ho provato Sì sì Cori 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 Un altro turbo Regà Tipo ora Mamma mia Non so se si esplode Con la vigilante Aia Mamma mia Regà Siamo vivi Siamo vivi Tranquilli Andiamo 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 Guardalo ma attag Che mi ha superato Poi ma attag E Matteo G Regà Sono praticamente identici Noi Cambio solo una lettera Allora Stavolta siamo andati Un bel po' veloci Perché abbiamo attivato Il turbo Della vigilante Che dite Respawniamo adesso Magari non ci va bene Assolutamente sì Polizia sì Per forza Andiamo 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 Oh madre mia Stava beccamata A momenti sì Regà Stavo così a strozzare Regà Ma è tanto Respawnato Magari non esplode Quella è l'esplosione Secondo me Credo proprio che sia Chi c'è sta No non c'è È sparito È sparito Mamma mia Mia è l'esplosione Ok Ok Vediamo check 22 su 28 Regà Già 8 minuti Sono passati Come è possibile Bella la miniatura Pure da giù Ti hanno fatto esplodere Tutti questi Però se voglio fare La miniatura da giù Regà Dobbiamo far esplodere Pure questo Che sennò Non va bene Ok E anche Questo Questo regà Questo verde Perfetto Ora è pulita Sì sì Oh Wow Questa arte Respawn Ci vuole Ci vuole Regà Il ritmo Il ritmo c'è Aereo pure C'è sta Mamma mia Demax Bravo Demax Aiuto 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 Ah va bene Così Dai non ci lamentiamo Però Se c'è un po' Più dei boost Per arrivare alla fine Regà Sarebbe stata gradita La cosa Eh Vigilante Mamma mia Andiamo Andiamo Che paura C'è il traguardo giù Sì C'è il traguardo Posso sparare La miniatura qua E posso mettere un veicolo Tipo nella miniatura Regà Che bella così Eh Favolosa Serviamo la clip 24 secondi Vediamo un po' Se ce l'ha fatta Sì Ha vinto Complimenti A me Teo Gira Bicillante Frena Regà Regà Io ce provo Ce proviamo Regà Ce proviamo Non ci perdiamo Pure sta seconda posizione Stavo zitti Perché è così delicato Ok Ok Ci siamo Regà Mamma mia Ma è delicata La BMX Regà Qui sì Echime Echime Grandissimo Va a concludere Sui Prima che C'è fregalo Tutto Riccate questo Se sto bene Ah raga Sapete Non mi ricordo Se ve l'ho raccontato Ma il simboletto È buggato Non perché è buggato Il simbolo Ma il giacchetto L'aggiornamento Di GTA Ma ha buggato Il giacchetto Non mi chiedete Il perché Aspettate che gli scrivo No 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 Perché pedala All'improvviso Fermi Do sta Allora scriviamo Vai sui Vai sold C'è la parola salvatariato Ma Se da soldi Da quando è che Che sei ladro Ria Scusate Da quando Scrivete nei commenti Se io ci vuole un minibun Ma io dico Comunque sia Se vi è piaciuta L'amica rampa Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale